Veronica Fanciuli è andata benissimo ai giochi del Mediterraneo, soprattutto la seconda parte delle regate in cui hai fatto registrare risultati di primissimo livello. È così? Sì, è stata una regata difficile, molto faticosa dal punto di vista delle condizioni meteo perché abbiamo trovato veramente pochissimo vento e quindi il windsurf con pochissimo vento è molto fisico come sport. La seconda parte di regata per quanto mi riguarda è stata decisamente migliore della prima, ho fatto dei parziali, quindi delle regate sempre nelle prime, mentre purtroppo nella prima parte di regata ho pagato una regata sbagliata che mi ha fatto allontanare a livello di punteggio dal podio, quindi purtroppo finisco in quinta posizione la regata, però comunque soddisfatta di tutte le prove che ho svolto. Anche perché Veronica arrivi vicinissimi agli atleti che sono arrivati poi sul podio, quindi a livello di distacco eri lì anche tu. Sì, eravamo veramente molto vicine come punteggio, purtroppo essendo una regata dove non c'erano tanti partecipanti non è stato facile recuperare quel distacco iniziale a livello di punti, però eravamo veramente molto vicine. Anche l'ultimo giorno è stata una regata che le prime cinque abbiamo fatto tutte compatte perché ce la giocavamo fino alla fine. In vista dei prossimi appuntamenti quindi si riparte dalla seconda parte in particolare di questi giochi del Mediterraneo e cosa c'è da migliorare invece nell'approccio forse alla manifestazione, quella che è stata anche a Tarragona? Sì, sicuramente devo essere più costante nei risultati perché magari nella prima parte di regata ho avuto dei picchi primo e secondo e poi ho fatto regate più sbagliate, mentre nella seconda parte ha pagato la costanza. La prossima regata importante è appunto il mondiale, abbiamo un mondiale europeo ad agosto, due regate vicine, quindi direi che la regata di Tarragona può essere un punto di inizio per prendere spunto per fare bene il mondiale europeo.